proviamo la presentazione poi come al solito ci sarà spazio per per le domande allora benvenuti a tutti buongiorno benvenuti in un nuovo geobreak oggi abbiamo come ospite salvatore fiandaca che ancora una volta diciamo si è reso disponibile a partecipare appunto a uno dei nostri geobreak e oggi parleremo di un argomento diciamo che così abbiamo un po definito no anche nella nostra presi nelle nostre presentazioni di quelle del geobreak di oggi un po appunto il primo passo verso un uso più più consapevole di QGIS che è appunto l'installazione per esperienza sappiamo che è un momento diciamo un po critico perché non si sa mai bene cosa come e quando installare aggiornare quindi abbiamo chiesto indubbiamente a a un esperto di di venire a fare un po di chiarezza ecco sull'argomento lascio quindi la parola salvatore che ringrazio ancora e e poi appunto come come al solito alla alla fine del geobreak lasciamo qualche minuto per domande curiosità e discussione grazie ancora allora buongiorno a tutti allora passo subito alla seconda slide e questo è per presentarmi però non voglio leggerla andiamo avanti perché abbiamo poco tempo allora di cosa parliamo già roberta ha fatto l'introduzione quindi anche questa la salto allora iniziamo ma che cos'è QGIS voglio un attimino definire che cos'è QGIS per capirlo molto velocemente naturalmente allora che cos'è QGIS QGIS inizialmente viene chiamato quantum GIS ma dal 2013 in poi viene chiamato solamente o meglio viene come dire è divulgato con QGIS non viene più scritto quantum su questo punto io insisto molto io molto probabilmente mi faccio anche odiare nel nel sul web su facebook su twitter ovunque io insisto nel dire che QGIS si scrive solo così non ci sono altri modi perché io vedo mille modi diversi come scrivono QGIS la Q maiuscola e GIS minuscolo oppure Q e GIS maiuscola e la IS minuscolo no QGIS si scrive solo così tutto maiuscolo ok detto questo che cos'è QGIS è un software GIS desktop open source che serve per la gestione visualizzazione modifica analisi stampa di dati geografici e multipiattaforma quindi lo possiamo utilizzare su GNU linux unix mac windows e così via supporta dati vettoriali raster e database QGIS rilasciato con questa licenza GNU public license è scritto in G++ mentre l'interfaccia grafica utilizza libreria QT anch'essa open source QGIS permette l'integrazione di plugin sviluppati in G++ oppure anche in python QGIS è mantenuto da un gruppo di sviluppatori volontari che pubblicano una nuova versione ogni quattro mesi e un aggiornamento mensile ora questo qua lo approfondiremo un po' meglio QGIS ha l'interfaccia tradotta in numerose linque questo per farvi vedere come sono diciamo così dove si trovano gli sviluppatori nel mondo quindi la prima mappa è a livello montiale come vedete ovunque a ogni parte del mondo c'è un sviluppatore di QGIS questo a livello europeo piccola nota triste abbiamo c'è uno dei maggiori e storici sviluppatori di QGIS che si trova per adesso in Ucraina no non si trova è ucranio dell'Ucrania Alex Brui si trova qua queste per quanto riguarda l'Italia queste sono le facce degli sviluppatori italiani non sono tutti ci ho messo anche la mia faccia ma io non sono uno sviluppatore però mi piaceva metterla questo per per farvi vedere che le tre versioni di QGIS ora vi spiego perché sono tre le traduzioni delle GUI dell'interfaccia sono al cento per cento tradotte il responsabile di questo della traduzione della GUI e non solo è Stefano Cambus che saluto allora sistemi operativi questa schermata mi serve solamente per dimostrare e quindi non tanto dimostrare solamente per giustificare il fatto che in questa in questo Geobrick parlerò solamente di Windows purtroppo degli altri non sono sufficientemente competente e in questa slide qua vedete che parlo a livello mondiale naturalmente per quanto riguarda il sistema operativo il settantaquattro per cento dei computer nel mondo utilizzano Windows mentre il quindici per cento Mac il due per cento Google Chrome e purtroppo il due per cento GNU Linux ok quindi ripeto questo solo per giustificare il fatto che parlerò solamente di Windows questi sono dei grafici ma non ci ci perdo tempo allora iniziamo a parlare dell'installazione di QGIS allora il punto di partenza è la pagina web è questa qua HTTPS QGIS.org comunque basta scrivere su Google QGIS.org e vi manda subito in questa pagina qua quindi tutto quello che dirò da ora in poi il punto di partenza è questa pagina qua da qua naturalmente poi cliccando forte su questo punto scarica adesso da qui è possibile passare alla successiva o meglio quando vi collegate qua se seppiggiate su questo bottone scarica adesso passate a quest'altra schermata qua e come vedete qua ci sono tutti i sistemi operativi Windows Mac OS Linux eccetera ripeto io mi concentrerò su Windows allora dirò solamente due parole per quanto riguarda GNU Linux e Mac OS allora per installare QGIS sotto Linux fondamentalmente ci sono tre almeno io ne conosco tre modalità per installare QGIS una è da riga di comando la seconda modalità è compilandolo però per compilarlo occorrono delle capacità un po' fuori dal normale nella compilazione attualmente è possibile installare configurare quello che si vuole e l'ultimo che conosco è tramite Flatpak praticamente è un pacchetto si scarica e si installa per quanto riguarda Mac invece è un mondo che non ho mai conosciuto e ho chiesto un po' come si procede per installarlo ma allora si dovrebbe scaricare un file punto DMG e da questo file si installa QGIS oppure un seconda modalità sono le compilazioni alternative ma vi ripeto non sono cioè non conosco questo mondo quindi non posso approfondire su questo però per esperienza come ho scritto qua leggo spesso in giro che QGIS non è ancora perfettamente utilizzabile nel mondo Mac ci sono sempre dei problemi però naturalmente non essendo esperto non voglio approfondire questo argomento qua il Mac per quanto riguarda Windows allora perché ho tagliato queste due perché queste slide in realtà l'avevo fatto più di un mese fa quando Roberta mi ha invitato questo argomento perché io subito fai tendofondo le slide poi piano piano per vedo correcendo questo corretto soltamente ieri perché ormai a oggi queste due standalone .exe non esistono più non vengono più create e non esiste neanche l'osg cioè il vecchio Repositori naturalmente per adesso forse non mi seguite al 100% ma ora approfondiremo tutti questi tutti questi elementi allora per quanto riguarda windows abbiamo l'installazione stand alone e questa installazione un altro che un semplice file di estensione msi non è più exe ma è msi ed è solo a 64 bit e non funziona su sistemi windows 7 quindi per forza almeno dovete iniziare da windows 8 ma è consigliato da windows 10 in poi quindi prima modalità di installazione la stand alone la seconda è tramite l'osg for windows v2 v2 significa repositori nuovo praticamente qua è 64 bit stesso discorso e poi c'è un jolly che le portable queste qua non sono delle diciamo così delle installazioni ufficiali io me ne occupo da forse da un anno da questa parte sono io che creo queste portable almeno per quanto riguarda per quello che conosco io ne parlerò un piccolo accenno lo farò anche sulle portable e perché ho messo qua qg 3.24 per ricordarmi che appunto l'exe le stand alone.exe a partire dalla 3.24 non esistono più ok detto ciò andiamo a mano approfondire questo ripeto parlerò solo di windows in italia al mondo come ho detto poco fa siamo al 74 per cento cioè praticamente tre computer su quattro al mondo sono tutti windows in italia siamo un pochettino più verso windows siamo al 76 per cento allora l'installazione tre categorie stand alone osg e portable andiamo a vedere alcune di queste allora l'installazione stand alone l'installazione stand alone quando voi vi collegate al sito se vi ricordate all'inizio il punto di partenza trovate questa icona qua di QGIS se cliccate su questa su QGIS stand alone install lo scaricate quindi un click per scaricarlo e un click per installarlo appena finita l'installazione vi trovate questa schermata così per quanto riguarda invece lo sg o for windows network installer trovate quest'altra icona che è diversa vedete questa stand alone ha la Q qua il simbolo di osg o qua se lo scaricate e lo avviate la prima schermata è questa questa è l'ultima della stand alone questa è la prima della osg perché ho messo questa faccia questa persona per ricordarvi che è la realizzazione del pacchetto stand alone o la cura del repository osg for windows viene fatta da georgian fisher questa persona si occupa della pacchettizzazione di QGIS tutte le versioni quando sono disponibili è sempre lui e quando su io forse è da solo quindi per questo alcune volte c'è un po di ritardo nella nel rendere disponibili questi pacchetti perché lui solo che si occupa di questo di questo lavoro allora vediamo un attimino di confrontare le due le due metodologie di installazione ops va al contrario allora buongiorno la stand alone la stand alone è abbastanza grazie tutto abbastanza bene per favore e l'audio perché sento un rimbombo allora stavo dicendo un attimino un confronto tra la stand alone e lo sg eo sempre un'esperienza mia personale attenzione per quanto riguarda la stand alone io vedo un solo vantaggio nell'utilizzare la stand alone qual è questo vantaggio che io mi collego sempre a quel punto di partenza clicco su questo link lo scarico è un file eseguibile doppio clic perché nell'ambiente windows con un doppio clic si avvia l'installazione ed è fatta QGIS è installato quindi per come la vedo io l'unico vantaggio è che scarico un eseguibile doppio clic quindi con due clic ho installato QGIS questo è il mondo stand alone io non vedo nessun altro vantaggio passiamo invece a osg for windows quali sono i vantaggi nell'utilizzare questo innanzitutto appena cliccate su questo su questo link scaricate un piccolo file di un mega non di più ed è un ed è appunto il programma di installazione installazione di rete questo programma vi permette di configurare la vostra installazione quindi i vantaggi quali sono qua scarico un piccolo eseguibile che è questo qua posso configurare il mio QGIS configurare cosa intendo per configurare posso decidere in quale cartella metterlo posso decidere quali moduli scaricare posso decidere quali versioni di QGIS scaricare posso aggiungere dei moduli in qualsiasi momento perché spesso cosa succede noi installiamo QGIS installiamo dei plugin e alcuni plugin non funzionano perché mancano delle librerie mancano dei moduli e spesso quando avviamo questi plugin ci compare l'errore manca modulo X ora con la standalone si può anche fare ma è molto più complesso con questa versione OSGEO basta avviare sempre il programma di configurazione si va a cercare il modulo e si installa con un click quindi è molto a mio avviso un altro aspetto positivo come ho detto posso installare tutte le versioni che voglio io utilizzo ormai questo questo metodologia da anni e nel mio pc attualmente ho tre versioni di QGIS utilizzo allora quindi su windows siamo sempre su windows questo potevo in effetti toglierlo forse di di un po confondere idee allora la versione standalone versione standalone ripeto non esiste più la exe ma è msi punto msi e di questo standalone abbiamo sia la corrente che lltr se vi ricordate qua vedete qua questi sono i due bottoni questa qua è la corrente attualmente oggi questa è la corrente io la chiamo corrente che è quella che dura quattro mesi praticamente mentre lltr quella stabile dura un anno quindi corrente quattro mesi questa un anno e siamo qua quindi corrente dell'etr versione standalone mentre la versione OSGEO for windows v2 vi ricordo che v2 in un tento non solo io ma anche tutta la comunità è il nuovo repository per un repository si intende che in questo repository ci sono tutte le nuove dipendenze ora più là vi faccio capire quale sono le nuove dipendenze ora su OSGEO for windows abbiamo la corrente lltr lltr di sviluppo la dev e tante altre ora ora vi faccio vedere ancora meglio per quanto va dalla portable ripeto exe o msi e c'è si possono creare sia le correnti che lltr questi sono i file così forse si capisce un po meglio vedete qua inizia sempre il file come QGIS OSGEO for windows 3.14 setup x86 questo è quella 32 bit sono quelle vecchie queste infatti ho messo la x mentre x86 64 sono quelle 64 bit ora queste non le trovate più trovate solo queste qua punto msi per quanto riguarda le standalone ok naturalmente questo dov'è che lo trovate quando andate sempre nel punto di partenza nel sito non fate altro che cliccare su un bottone ma se col mouse vi sono fermato un attimino sull'icona del bottone in basso a sinistra vi compare questo questo link qua potete vederlo anche da qua ok allora eseguibile exe o msi allora questo qua è un po di storia perché ormai si parla di storia l'exe come ho detto poco fa non esiste più ma tutte le standalone erano prima disponibili in formato exe e questo era vero fino alla versione 3.16.4 dalla successiva quindi dal 3.16.5 inizia il periodo di transizione e in questo periodo di transizione che è finito la settimana scorsa trovevamo sia l'exe a 32 e 64 oppure le msi a 64 ok mentre dalla 3.20 che solo le msi per quanto riguarda la stantalone ora vi faccio capire un po meglio perché forse così vi sembra un po comunque la differenza una delle differenze che si nota subito tra l'exe l msi che tutte le versioni exe non vanno oltre i 400 mega come peso le msi superano il gigabyte ok questo questo è scritto nel 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 seme nel punto di partenza quando andate nella pagina di qg c'è scritto sotto perché super il gigabyte allora questo questa schermata qua serve solamente per convolvervi le idee spero di riuscirci allora per capirvi per farvi capire la differenza tra nuovo repository vecchio repository allora immaginate QGIS è un software open source quindi il codice si trova su github github lo potete vedere come una cartella che si trova nel web e in questa cartella ci sono delle sottocartelle e tutti i file che servono per far per far funzionare QGIS quindi vedete questa come un contenitore naturalmente questo è il simbolo di github si trova su github quindi tutto il contenitore e ci sono due questi due rami quindi vecchio repository praticamente dove ci sono le exe per farvi capire è il nuovo repository dove c'è l'osg o v2 questo è v1 questo è v2 con le nuove dipendenze nuove dipendenze praticamente significa che il python che si utilizza è maggiore di 3.9 mentre qua nel vecchio c'è python minore di 3.9 e qua ci sono le msi allora come vedete qua questi due diciamo così rami c'è una zona di sovrapposizione vedete questa zona di sovrapposizione questa è la diciamo così la fase di transizione che ormai l'abbiamo superata ormai siamo oltre l'abbiamo superata ma in questa fase di transizione noi avevamo sia le msi sia le exe però come ho detto siccome l'abbiamo già superata siamo solamente in questa parte ora non c'è più questo problema di capire ma devo prendere le exe devo prendere le msi sono nel repository v1 nel v2 ora bene siamo qua ok allora windows 7 si poteva utilizzare fino a questa data diciamo così qua c'è windows 8 qua windows 10 quindi vi consiglio se volete utilizzare qgis di utilizzare windows 10 oppure addirittura l'11 allora dopo aver fatto questo cose utili da sapere prima da questa qua un attimo mi fermo vi faccio vedere un attimino d'acqua basta scrivere qgis faccio vedere praticamente dette questa è la pagina da dove parte tutto cliccate qua come dico io forse su questo bottone e passate su questo vedete questo è il programma per l'installazione di rete lo sg for windows mentre qua ci sono le due stondalone prima se qualcuno di voi sicuramente si ricorderà qua c'era un elenco più lungo prima perché c'erano sia le exe che le msi ok ora invece è molto più ridotto più più leggibile da qua come vi dicevo poco fa se vi soffermate col mouse qua sopra qua sotto vedete che c'è un link qua in fondo a sinistra vi dice la versione in questo caso vi dice qgis osg for windows 3.24 punto 0 trattino 2 ok da qua potete capire qual è l'ultima versione che è disponibile oppure la versione che scaricata e cliccando qua quindi questa qua ripeto la standalone cliccate qua non lo faccio perché è un gigabyte cliccate qua vi scaricate un file eseguibile msi di un giga doppio clic appena termina di scaricare doppio clic e si avvia l'installazione mentre questo qua lo sg for windows se cliccate qua vi scaricate un piccolo eseguibile di un mega che io già ho qua ve lo faccio vedere lo avvio e appena lo avviate vedrete una finestra del genere ok da qua vi chiede se volete fare un'installazione espressa oppure avanzata quella espressa praticamente coincida alla standalone più o meno di conseguenza vi faccio vedere quella avanzata se qua proseguite poi vi chiede se volete scaricare da internet eccetera eccetera ok qua vi chiede in quale cartella volete installato ora vi chiede dove mettere i file temporanei qua vi chiede se avete una connessione diretta ok vi consiglio di lasciare tutto per com'è in questa schermata vi chiede quale repository utilizzare per scaricare i file naturalmente utilizzate vi consiglio download.sgeo avanti lui si scarica un file di aggiornamento e vi ritrovate in questa schermata qua questa schermata qua non c'è niente di complicata almeno fino adesso ora qua se volete installare QG basta che scrivete qua in questa casella di ricerca QG ok in automatico questo serve serve a filtrare e qua sotto vedete c'è desktop non so se riuscite a vederlo è piccolino ma qua c'è desktop queste sono le versioni che io attualmente ho installato vedete qua la 3.24 la 3.25 e la 3.22 questa è l'attuale ltr la 3.25 essendo dispari ora vi spiego cosa significa è la versione di sviluppo e poi c'è la 3.24 che era versione corrente io naturalmente siccome già la uso già sono popolate questi trovati io c'è qua trovate già delle dei numeri ma alla prima quando fatta voi per la prima volta qua non ci saranno numeri ma dovete agire qua qua se cliccate qua vedete è possibile cambiare e cambiare anche la versione quale versione volete installare oppure disinstallare quindi basta cliccare qua e cambiate il numero di versione per la ricerca vedete qua 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 sono tutti e tutte tutte le possibili versioni di QGIS che potete installare vedete qua QGIS QGIS desktop QGIS dev dev è quella di sviluppo poi c'è QGIS dev full poi c'è QGIS dev pdb questa qua è quella che serve per fare debugging poi c'è QGIS comunque qua ci sono molte versioni che potete installare di QGIS io ripeto ho installato solamente quella corrente quella di sviluppo e l'LTR se poi non so vi manca un modulo basta che lo scrivete qua ora non lo so non me ne vengono in mente comunque da qua potete scrivere un nome di un modulo e di conseguenza poi ve lo trovo per esempio vedete quanti moduli ci sono installati ok quindi qua basta fare una ricerca di un modulo oppure non solo di grassi volete installato grass divete grass e lui qua vedete io per adesso ce l'ho 7.8.7 non so volete installare grass e non grass saga saga scrivete qua saga ok io per adesso ce l'ho 7.8 ok quindi ogni software che software libreria modulo eccetera eccetera lo scrivete qua QGIS questo programma di installazione ve lo cerca se c'è ve lo presenta e naturalmente poi agite su questo bottone qua e gli dite installa e potete anche scegliere la versione io naturalmente annullo qua quindi la prima volta se non avete nulla di installato la prima volta ripeto questo vi scarica un piccolo eseguibile di un mega poi configurate appena finite di configurare non vi dovete preoccupare di di andare a vedere di andare a vedere scusate un attimo qua 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 vi dovete solamente preoccupare di indicare quali quali software desktop volete QGIS quale versione grass saga eccetera eccetera poi per quanto riguarda tutte le dipendenze tutte le librerie associate ai software desktop ci pensa a questo questo applicativo quindi se voi gli dite installami QGIS ok poi la seconda schermata vi farà vedere un elenco di dipendenze voi dovete dire solamente ok per me va bene quindi ci pensa lui a installare tutte le dipendenze ok detto ciò passiamo un attimino prima di continuare vi voglio un po' raccontare delle cose utili da sapere su QGIS allora numero di versione non so quanti di voi si sono mai chiesti ma che sono tutti questi numeri a cosa servono tutti questi numeri e qua li ho sintetizzati il primo numero 3 cambia solo se ci sono grossi cambiamenti per esempio se vi ricordate il passaggio da QGIS 2 a QGIS 3 perché è cambiato questo numero? è cambiato appunto perché ci sono stati dei grossi cambiamenti per esempio se passate da Python 2 a Python 3 ok i secondi numeri questi qua in questo caso 22 che cos'è 22? 22 rappresenta la ventiduesima release della terza serie ok però 22 non sono 22 versioni di QGIS in realtà sono la metà perché? perché ci sono le versioni pari che sono quelle correnti e le versioni dispari non so quanto di voi si sono mai accorti che per esempio c'è QGIS 3 QGIS 3.2 QGIS 3.4 come mai non è mai citata quella dispari 3.1 3.3 perché le versioni dispari sono le versioni di sviluppo vengono dette ok quindi su 22 in realtà sono 11 le versioni correnti non 22 però ripeto siccome le versioni correnti sono tutte pari 3.22 3.24 ok 3.16 3.10 sono tutte pari e il motivo è questo qua quindi le pari sono quelle correnti le disperi sono quelle di sviluppo terzo numero terzo numero in questo caso 3 rappresenta partendo da 0 perché questo qua infatti vedete qua 3.24.0 quindi la prima versione di una nuova versione parte da 0 e da non so sarà da 2 o 3 versioni a questa parte viene aggiunto anche l'RC l'RC sta per release candidate quindi la versione 0 e l'RC come fanno anche altri software 3 ok il numero di aggiornamento delle correzioni bug questo qua perché cambia da 0 poi passa 1 poi passa 2 poi passa 3 perché questo qua il 3 questo numero ci fa capire gli aggiornamenti mensili quindi se siamo a 0 è la prima versione 1 significa che è passato un mese da quando è stata rilasciata 2 2 mesi 3 3 mesi 4 4 mesi e così via per questo vi dicevo all'inizio vengono rilasciate le versioni di QGIS o meglio gli aggiornamenti delle versioni che non sono nuove versioni solamente aggiornamenti nel senso che vengono corretti bug ok quindi 3 4 5 si arriva fino a 16 si arriva tant'è vero se vi ricordate la 3.16.16 cioè della versione 3.16 sono state rilasciate 16 aggiornamenti perché siccome questo dura un anno sono 16 i rilasci quarto numero ultimo a cosa serve il quarto numero rappresenta un aggiornamento speciale entro il mese su questo qua io voglio raccontare quello che è successo da pochissimo una breve storia questo qua per farvi capire questo numero perché cambia allora avrà una settimana da quando è uscito la versione 3.24 però quando lo hanno rilasciato si sono dimenticati di mettere qua la scritta release candidate vedete infatti questa è la versione la prima versione 3.20 la rc e c'è scritto il release qua pure però qua se lo sono dimenticati quindi siccome io anticipo sempre i tempi nel senso che sono sempre siccome utilizzo molto questa versione quindi vado sempre a guardare cosa cosa combinano mi sono accorto fortunatamente prima del rilascio o meglio non tanto prima comunque che mancava questa striscia qua e quindi ho subito scritto sia ad Anita sia a Fischer ho fatto un po' di casino e quindi hanno messo hanno aggiunto questa scritta e quindi come vedete qua da 1 non so se si vede bene vediamo se riesco a zoomarlo non ci riesco da qua vedete 3 punto dopo che ho fatto la mia la mia segnalazione da 1 è passata a 2 vedete però vado a tornare indietro fanno la correzione e guardate qua si scordano di mettere QGIS qua vedete c'è QGIS normalmente sono dimenticato quindi hanno rilasciato un aggiornamento la 3.24.0.2 senza la scritta qua allora nuovamente io a scrivere attenzione aprire issue e aprire ticket eccetera eccetera e quindi hanno rilasciato come vedete qua la 3.0.0 trattino 3 e finalmente ci siamo riusciti questo per farvi capire a cosa serve dove siamo qua a cosa serve il terzo numero quindi se succedono degli incidenti dei problemi durante il mese il numero che cambia è l'ultimo ok continuiamo allora altra curiosità su QGIS la QGIS 3.14 la 3.14 se vedete qua vedete ancora c'era le XE c'erano perché se vi ricordate come ho detto poco fa le MSI nascono dalla 3.16 in poi vedete qua gli aggiornamenti 3.14.0 1 1 1 1 1 ora c'è il terzo numero 0 1 15 perché hanno dato 15 qua poi 16 perché qua questa è una piccola curiosità hanno cercato di seguire il numero P greco più greco è 3.14 15 eccetera eccetera quindi prima 14 1 1 e poi hanno messo 5 poi naturalmente non potevano mettere il 9 o non mi ricordo perché Fischer l'ha spiegato ma a livello di software il 9 dava fastidio e quindi hanno scritto direttamente 16 niente questa è una piccola curiosità va bene questo per spiegare quello che già vi ho detto le versioni pare e le versioni disperi quelle disperi sono tutte le versioni master quelle pari sono le versioni correnti questo per quanto riguarda un po' di storia sugli splash screen all'inizio vedete c'erano sempre animali poi c'è stato tutto il periodo della QGIS 2 con tutti i pianeti e QGIS 2, QGIS 1 questo è 0, tutta la 0 con gli animali tutta la 1 con i pianeti tutta la 2 dalla 2 in poi praticamente il nome di QGIS non so se vi siete mai chiesto ma come mai questi nomi da dove escono fuori non so, QGIS 3.0 Girona 3.20 Odense non so, 2.10 Pisa perché questi nomi? Da dove escono fuori? i nomi escono fuori dai luoghi in cui prima si riunivano per fare i meeting gli sviluppatori ora da quando c'è la pandemia che purtroppo non si fanno più riunioni dal vivo nel senso che si spostano fisicamente gli sviluppatori i nomi non vengono più associati ai luoghi ma a altre cose altre eventi un meeting è stato realizzato in Italia a Pisa 2.10 nel 2010 a Pisa questi sono i luoghi dove sono realizzati questi meeting praticamente quasi tutti in Europa anzi ce n'è uno qua qua se mi ricordo di male Zanzi barra forse questi invece sono gli splash screen delle versioni dispari cioè quelle di sviluppo qua praticamente vedete delle foto dei luoghi dove si riunivano e quelli sono tutti gli sviluppatori naturalmente non ho la possibilità di ingrandire ma ovunque qua c'è Paolo Cavallini c'è sempre Paolo Cavallini che ci rappresenta questa ultima invece qualcuno di voi più attento potrebbe dire come mai questa ultima è diversa da questa sempre ricollegandoci al fatto della pandemia siccome non ci si può più riunire almeno fino adesso ancora no l'ultima riunione è avvenuto qua a Bucarest proprio qualche non mi ricordo se è stato qualche settimana prima o qualche mese prima che si sviluppasse a livello mondiale la pandemia ora si utilizza questa perché ripeto non ci si può più riunire quindi tutte queste facce che vedete qua sono tutti si parte dai veri e propri sviluppatori infatti il primo vedete qua c'è Neil fino all'ultimo se vedete ci sono anche io qua che hanno contribuito in qualche modo hanno fatto qualche piccola forse commit qualche PR eccetera eccetera allora ritorniamo un attimino sulle installazioni RC e LTR è stabile allora come ho detto poco fa una nuova versione nasce sempre come RC quindi come quindi parte da zero quella proprio di oggi quel di oggi una settimana fa è la nuova 3.24 parte subito da zero quindi è un RC perché nasce questo RC l'RC sta ad indicare vedete qua già c'è nello splash screen è per far capire all'utente che questa è la prima versione è il primo rilascio della nuova versione quindi molto probabilmente ci saranno ancora dei bug quindi è come dire state attenti la potete utilizzare però occhio che è la prima versione quindi molto probabilmente ci sono ancora dei piccoli bug da sistemare dopo un mese ricordo sempre che gli aggiornamenti sono mensili dopo un mese da 3.24 passerà a 3.41 e non sarà più RC quindi toglieranno questa scritta qua l'RC più la corrente questi due praticamente il primo mese e poi corrente dal secondo mese in poi queste durano quattro mesi quindi a 3.22 3.20 3.24 durano quattro mesi quindi le versioni possibili sono 0 1 2 3 non ce ne sono altre tranne che si parli della dell'LTR l'LTR che è questo 3.22 è un LTR questo qua e quindi dopo il 3 passa a 4 ma solamente la versione LTR ok la 3.24 che non è non sarà LTR arriverà alla versione 3 e scomparirà non ci sarà più questo mentre la 3.22 attualmente esiste della LTR per adesso è 3.22 2.4 ok infatti per la LTR la numerazione continua e quella attuale siamo alla 4 poi posso me saremo alla 5 posso me ancora 6 7 8 fino alla 16 queste sono le LTR delle versioni 3 la prima era la 3.4 poi 3.10 3.16 l'attuale era 3.22 queste sono le 4 versioni LTR della versione 3 naturalmente questa è appena iniziata piccola nota sulle LTR che è una cosa che vi anticipo attualmente un aggiornamento per quanto riguarda le LTR un aggiornamento ogni mese anche le LTR esce una nuova versione ogni mese quindi sono 12 aggiornamenti aggiornamenti ci sono quindi per questo LTR è molto stabile perché vengono rilasciati 12 aggiornamenti immaginate che lavoro devono fare soprattutto Fisher in futuro questo ancora se ne sta parlando ma secondo me lo faranno in futuro gli aggiornamenti della LTR sarà solo trimestrale ok quindi ci saranno solamente 4 versioni all'anno invece di lasciarne 12 ma solo 4 questa è un'anticipazione è un spoiler non so se lo faranno ma secondo me se lo faranno per quanto riguarda invece le portable questo qua vi ripeto non esiste una versione ufficiale ognuno se la fa come vuole se la realizza come vuole infatti come è scritto qua è possibile crearla a casa io ho creato un repository che trovate qua dove spiego tutto passo passo come le realizzo ci sono molte versioni molte portable ci sono a partire dalla 2.18 in poi quindi è possibile crearla e se ormai ripeto non ci sono più sono le MSI non si installa nulla per quanto riguarda le PR le portable la cosa carina è che non occorre installare nulla praticamente basta scaricarsi questa cartella naturalmente per questione di spazio la scaricate zippata poi la unzippate e quella cartella poi la mettete dove volete nel vostro hard disk nell'hard disk esterno la potete mettere in una pendrive dove volete basta che cliccate sul file non mi ricordo se appunto BAT o punto qualche cosa servì a QGIS e lo potete utilizzare tranquillamente funziona perfettamente sia come plugin potete installare dei plugin potete andare sul web cioè è una versione a tutti gli effetti qua se vi interessa il mio repository è qua siamo alle conclusioni vediamo che ore sono 950 qua vado veloce allora conclusioni prima conclusioni naturalmente sono delle conclusioni mie personali non voglio influenzare nessuno però allora frutto della mia esperienza prima cosa QGIS nasce sotto GNU Linux e gli sviluppatori scusate usano questa piattaforma per sviluppare QGIS quindi la migliore soluzione possibile per usare QGIS è sotto GNU Linux ok quindi praticamente vi sto consigliando di utilizzare Linux macOS ve lo sconsiglio esperienza personale e terza 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 cosa il 75% dei computer al mondo hanno come sistema operativo Windows quindi se volete utilizzare se siete obbligati a utilizzare Windows tra la standalone e l'OS Geo vi consiglio di utilizzare l'OS Geo Network Installer conclusione numero 1 conclusione 1 quella era 0 questa è la 1 allora io uso Win e consiglio questa perché vi consiglio questa 1 perché posso installare tre o più versioni corrente ltr e dev 2 vi è la possibilità di aggiornare la dev la famosa versione dispari quasi giornalmente io giornalmente quasi giornalmente aggiorno mi scarico la versione aggiornata e questo mi dà la possibilità di fare dei test sulle nuove features infatti tutte le nuove feature io le so in anticipo rispetto a tutti gli altri perché perché uso la dev ogni mese aggiungo la ltr con un solo clic ogni mese per chi di voi utilizza la versione ltr modalità standalone o meglio potrebbe fare però deve disinstallare quella che c'è attualmente deve riscaricare l'ltr un altro giga la deve nuovamente doppio clic installarla è un po' più complicato mentre qua basta un clic e lo aggiorna in automatico posso configurare come ho detto poco fa posso installare grass saga gital eccetera eccetera posso aggiungere i moduli librerie molto facilmente e poco invasiva altra cosa importante per i sistemi windows lo sg for windows è poco invasiva rispetto alla standalone sto parlando del registro di windows ok poco invasiva significa che va a toccare poco il registro non lo tocca come lo tocca la standalone si installa dentro un'unica cartella cartella che tra l'altro è pure personalizzabile e è aggiornata sempre con le ultime dipendenze ecco questo qua non l'avevo detto per nuove dipendenze cosa intendo intendo il pro j8 gital 3 special light 5 oppure la possibilità di utilizzare nuvole di punti queste sono le nuove dipendenze nelle vecchie c'era ancora pro j4 gital 2 special light 4 immaginate era ancora ferma a secoli fa 9 puntini puntini eccetera eccetera passiamo ora a quella le conclusioni più importanti ed ho finito questo sono dei consigli ulteriori allora in in produzione quindi per quanto riguarda le aziende professioniste eccetera eccetera consiglio di utilizzare ltr perché ltr perché ha meno features però è molto più stabile perché ripeto è supportata per 12 mesi quindi in produzione se ci lavorate in pratica dovete fare delle consegne eccetera eccetera vi consiglio se non siete in produzione ma siete studenti volete imparare a utilizzare il QGIS volete fare qualche test eccetera eccetera vi consiglio quella corrente quindi attualmente a 3.24 quindi qua vi consiglio se ci lavorate la 3.22 qua vi consiglio se volete fare dei test eccetera eccetera la 3.24 e la corrente sempre se non siete in produzione se volete fare dei testing o delle segnalazioni di bug vi consiglio la versione master infine se siete dei pazzi come me utilizzate tutte e tre le versioni fate traduzione della GUI e fate anche bug tracking ok infine questo è un piccolo regalo qua vi trovate in questi due link come installare la versione LTR in questi tre grossi sistemi Windows Mac e GNU sia come installarlo che come disinstallarlo sono dei link questi le ha realizzate un indiano è una persona molto preparata quindi qua trovate come farlo passo passo e niente io ho finito l'ultima cosa perché ho messo questo nessuno se qualcuno di voi se ne è accorto o no questo qua proprio quest'anno il mese febbraio a febbraio QG ha fatto vent'anni 2002 2020 va bene io mi fermo perché ho parlato già troppo grazie se ci sono domande allora beh intanto ti porto i saluti di Rocco che ha dovuto diciamo uscire per altri impegni che ti ringrazia ovviamente per il contributo e ti chiedeva vabbè cosa hai usato per proiettare le slide non so forse per più che per proiettarle forse per farle nel senso non so esattamente che cosa chi lo chiede Rocco Pispico che però è uscito adesso Rocco fa una domanda che infatti non so non so neanche se l'ho interpretata correttamente ecco sì sì questa è una domanda che ha un certo senso una critica ho utilizzato G Drive ok tanto probabilmente te lo chiederà privatamente visto che ormai è uscito no no lui dici come mai tu parli sempre di software open source e poi utilizzi software privati questa è la sua domanda l'ha fatto in modo semplice ah ecco c'era una velata polemica dietro ok e invece no all'inizio chiedevano credo sempre merito all'incontro di venerdì undici su Visidata se c'era già un link disponibile o quantomeno dove dove poter poi ricevere eventuali eh informazioni direi quindi link per partecipare simili mh no ancora no ma a breve usciranno tutti i link eh e la locandina ancora no non ho chiesto a a l'ho fatto questo spoiler per per Rocco ma ancora no ancora comunque vi anticipo che è giorno undici alle 17 e trenta allora intanto arrivano qualche domanda allora ehm Carmelo chiede quali sono direi secondo te eh Salvatore i plugin assolutamente da avere installati su QGIS questa è una domanda allora ehm per quanto riguarda i QGIS fondamentali indispensabili per QGIS sono già installati in QGIS stesso vi faccio un esempio il georeferenziatore è un plugin però è un plugin che eh può essere solamente attivato o disattivato ehm e non solo questo ci sono tanti altri plugin che vengono chiamati plugin che si trovano già nel core di QGIS oltre a queste non so quello che io utilizzo spesso è per esempio quello delle mappe di sfondo questi sono molto utili quindi è eh Quick Map Service questo è un altro plugin molto interessante poi dipende dall'uso non so Carmelo che uso fa di QGIS perché attualmente su nel repository di QGIS ci sono più di mille plugin quindi dire quale quale installare è un po' dipende da quello che ti serve eh Carmelo dice che si occupa principalmente di urbanistica eh anche lì è troppo generica è urbanistica praticamente si può fare di tutto comunque c'è il link eh questo qua se se Carmelo si collega qua eh QGIS repository eh dove è qua QGIS repository qua ecco qua ce l'elenco 1594 record quindi ci sono guardate questi sono tutti i plugin questi si possono ricercare per nome per autore per data eh per voti eccetera eccetera poi qua ci sono dei dei tag non so se voi se voi non so qualcosa per disegnare vedi qua dcd teasing eh non so per calcolare qualcosa relativa al catastro da qua basta cliccare su uno di questi e vi porta vi fa l'elenco di tutti i di tutti i plugin con quel tag oppure all'interno di QG stesso si può fare la stessa cosa eh non so vi faccio vedere avvio QG 3.22 eh se andate nel nella gestione dei plugin potete cercare tramite tag ora vi faccio vedere un attimino intanto che si avvia QG ehm chiedono se qualcuno conosce il plugin servizi ecosistemici città di Torino mi sembra un plugin molto molto specifico che dovrebbe aiutare nel calcolo dei servizi ecosistemici per la città di Torino e sulle mie installazioni non funziona dice S3Lab e e chiedeva a te Toto se ci puoi per favore dare un'occhiata personal eh dimmi come era non lo conosco scusami Roberta com'è che si chiama servizi ecosistemici città di Torino tanto vediamo appunto se è pubblicato se è o se invece diciamo su una eccolo qua ecosistemici città di Torino questo qua e questo qua fammi vedere il codice vediamo cosa c'è è questo qua otto mesi otto mesi ma qua non vedo neanche il file di metadatta ma esiste testo login c'è qua dal repository io personalmente non lo conosco ora un attimino un attimino vediamo se lo troviamo da qua 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 non è neanche sperimentale C'è la versione 2, ma aggiornata al novembre del 2021, non lo so, ci sono poche informazioni qua. Questo porta qua, ma non c'è nulla, non lo so. Purtroppo non lo so. Bene, non so se non ci sono altre domande, direi che possiamo... Io ho una domanda, scusa Roberta. Vai Fra. Era sempre una curiosità subvisitata che io non conosco, ma ha anche qualche caratteristica per analisi dei dati spaziali. Scusa la domanda molto generica, mi rendo conto che sia abbastanza buttata lì. Allora, visitata, innanzitutto lo puoi utilizzare per fare pulizia dei dati. I dati quindi possono essere dati spaziali o non spaziali, non so, per esempio, se hai delle coordinate lat-long e vuoi fare delle correzioni, naturalmente sto parlando per grossi dati, grossi moli di dati. Cioè, quando tu hai, non so, un milione, tre milioni di dati, a parte che Excel non riesce neanche ad aprirli, il CSV, forse i due milioni, tre milioni non riesce neanche ad aprirli, Excel. Per rispondere alla tua domanda, sì, con visitata, se tu hai le colonne lat-long, lui ti fa, per lì rappresenta in un grafico, sì, in un grafico X, Y. Ma solo questo, perché non nasce per un uso specifico. Io lo utilizzo per, non so, sistemare dei dati che poi utilizzo un QGIS, ok? Sì, sì, ho visto qualche tuo intervento, qualche tuo spunto, sì, sì. Grazie. Perché sul gruppo QGIS Italia, Telegram, una ragazza aveva problemi a gestire un file CSV che doveva utilizzare, naturalmente, in QGIS, ma era un file con circa 3 milioni di righe, e 3 milioni di righe QGIS li gestisce, ma deve avere un hardware abbastanza potente. Se non hai un hardware abbastanza potente, non riesci proprio a lavorare, sei bloccato, e che fai? Allora la ragazza subito passa ad Excel, e Excel neanche glielo apriva, 3 milioni di righe, come fai? E quindi gli ho consigliato, passa a visitata, con due clic risolvi il problema. Ho capito. Dico, bello, bello. Bene, allora io ringrazio ancora una volta Salvatore, che appunto è sempre molto gentile e disponibile a partecipare ai nostri Geo Break, e almeno anche per me personalmente è stato davvero utile, era un argomento che insomma ci tenevo parecchio di riuscire ad approfondire. Quindi posso interrompere un attimo? Come no? Ma posso fare una richiesta un po' strana, ma naturalmente porto e faccio vedere come scappano tutti. Se è possibile accendere tutte le video, tutte le web, così faccio uno screen, uno splash screen. 3 secondi. Ecco Antonio c'è, che con i nomi. Forse dovevi farlo all'inizio che c'erano più partecipanti, però vabbè, lo schermo te lo riempie di sicuro. Peace. Grazie. Bene, questa è una cosa che dovremmo imparare a fare anche noi, si vede che Salvatore tu sei più avezzo di noi anche a questi interventi, noi siamo sempre i primi a essere un po' timidi. Ok, allora, direi che se non ci sono altre domande io vi rinnovo l'appuntamento col prossimo Geo Break che sarà, scusate che controllo, il 16 marzo dove parleremo invece di... Io tolgo la condivisione. Parleremo appunto di un web GIS che stiamo sviluppando per una società che gestisce la raccolta, diciamo, rifiuti, quindi mostreremo appunto un po' di strumenti GIS e web GIS applicati a questa particolare tematica. Ancora grazie Salvatore, sicuramente ti seguiremo poi l'11 per appunto visidata e rinnoviamo insomma la nostra disponibilità ad ospitare anche, ad ospitarti per un Geo Break con molto piacere sull'argomento, ecco. Grazie a tutti.